Mentre il PIL continua a calare, l'unica cosa che cresce sono le tasse. A sostenerlo CNA Umbria, dopo un'indagine condotta sulle aliquote di IMU, Tasi e Tari, deliberate per il 2014 dai principali comuni Umbri. Con il debutto della IUC a rimetterci, secondo l'indagine condotta da CNA Umbria in collaborazione con il Centro Studi Sintesi, sono le imprese più piccole. Lo studio esamina le aliquote deliberate dai 18 maggiori comuni Umbri in materia di imposta unica comunale, la tassa che dal 2014 ha accorpato i tributi sugli immobili e sui rifiuti. Dati alla mano è assisi il Comune Nero. Per i titolari di piccoli laboratori artigiani, l'esempio è una superficie di circa 70 metri quadrati e quelli di opifici di maggiori dimensioni, 200 metri quadrati. In entrambi i casi la variazione rispetto al 2013 si impenne per i laboratori, tasse e tributi in un anno sono saliti del 14,8%, passando da 849 euro a 975. Sangati anche gli opifici della Sisano, che se nel 2013 pagavano 3.261 euro, nel 2014 devono ai comuni 3.752 euro, 491 euro in più, pari ad un aumento del 15%, mentre per gli opifici di maggiori dimensioni, attorno ai 2.000 metri quadrati, non aumentano tasse e tariffe, restando dal 2013 al 2014 intorno alla cifra annua di 11.481 euro. Anche Umbertide aumenta le tasse su laboratori opifici, come pure Foligno e Bastia Umbra. A città di Castello rincari contenuti per i laboratori artigiani, mentre per i piccoli opifici si registra un'inversione di tendenza dai 3.498 euro del 2013 si passa ai 3.334 di quest'anno, meno 215 euro per un calo del 4,6%. E qui calano, notizia positiva, anche i contributi per gli opifici più grandi, non di poco, meno 1.646 euro su un importo di 8.939. Buone notizie per gli eugubini, che segnano la maggior variazione al ribasso per tasse e tariffe di laboratori artigiani, meno 4%, passando da 804 a 771 euro. A Gubbio calano anche tasse su opifici da 200 e 2.000 metri quadrati, con una minor contribuzione rispettivamente di 79 e 787 euro. Guardando, oltre che alle variazioni a livello generale di tassazione dei comuni, nel 2014 quelli che hanno applicato le tasse più elevate nei confronti della piccola impresa sono Perugia e Terni, mentre quelli in cui ad essere penalizzate sono state le imprese di maggior dimensione sono Bastia Umbra, Assisi e Umbertide. Gli incrementi maggiori rispetto al 2013 si sono verificati invece a Spoleto, Fabro, Assisi e Umbertide.